Ola amico, primo appuntamento di una serie in collaborazione con il grande Christian Maier degli Elio e le storie tese. Sì signor, cominciamo oggi con una drum cam dove possiamo ammirarlo in un brano stupendo, vedrai la chart che scorre in tempo reale e puoi andare a scaricare gratuitamente il pdf con la partitura e la base audio con o senza click, che trovi tutto qui nelle note. Dopo il brano rimani perché ci sono alcuni backstage da vedere assolutamente molto divertenti, ma adesso andiamo a vederci il maestro Christian Maier. Buona visione! Ah scopa! Scopa! Sì scopa! Gioco in coppia, no giochi da solo, chi fa due punti poi trova il tesoro. Quaranta carte, le napoletane, coppe, denari, bastoni e spade. Questa carte ne vuoi una, vedi se a terra una è uguale, oppure fai somme dei loro valori, ma stai attento se trovi i denari. Fai da avere vento in carnet e più di cinque oli, e fra questi il set è bello, e la prima è la scopa, il sole è legibile. Pasqua, 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 il sole è legibile. Travolo e scoppa Rarimin rede Participare A scoppa Ho perso un'altra volta, non sono fortunato Le carte che mi hai dato non hanno alcun valore E' tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingeguiti E' Dio, lascialo stare Dio che sono un gioco La scopa sono invencibile 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 Ancora ancora Stai lì Resi E devi soffrire Ma quindi anche Cristian sbaglia ogni tanto Questa mi sa che è la notizia del giorno Scherzi a parte ragazzi che batterista Mamma mia che performance Poi bellissimo vederlo suonare così da vicino Concentrare tutta l'attenzione su quello che fa Sulle scelte, veramente una figata Noi ci vediamo per il prossimo appuntamento Con Cristian che uscirà a breve Sarà più didattico Ci sarà proprio una lezione che ha preparato per noi Lascia un commento al video E anzi facci sapere magari cosa ti piacerebbe imparare da lui Se avremo l'opportunità di creare un contenuto ad hoc Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale Così non ti perdi le prossime puntate Che sono una bomba Buona musica e alla prossima Un abbraccio Scopa 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 una partita Scopa con me